E non c'è allegria se non c'è lui, perché vi vado a presentare un grande, Alberto Selli. Grazie per il grande, però non c'è allegria perché è una bella cosa. Perché è vero? No, diciamo che soprattutto nel nuovo film di Siani, troppo napoletano, quando c'era l'area neomelodica, la cosiddetta scuola dove appunto il Bidello spiegava un pochettino le varie facce della musica napoletana, quando è arrivato all'area rava spettacoli della musica allegra, praticamente mi hanno identificato come un po' il reuccio di questo genere e questo mi fa piacere. Perché è vero, è vero, perché da anni mantieni questo titolo, hai questo trono. Ma diciamo che la satira è la mamma delle verità, io circo di pazziare a pazziare, se ce ne cose, è una alla fine, io lo dico in modo così. Anche i bambini cantano le tue canzoni, non è solo il pubblico che ti segue da anni, ci sono anche i bambini che cantano. Ma questa è la mia fortuna, che diciamo i bambini che poi saranno i grandi del domani, ancora adesso continuano a volermi bene e sono una grande forza per me. E certo, e certo. Allora, che cosa ci fai ascoltare e vedere perché adesso tu manderai un video? Sì, anche perché, non perché voglio farlo, lo voglio spiegare, siccome mando il video, no perché io sono arrivato fino a qua, perché io ho detto ma perché il suo fao super uomo, perché non guardo, no. Siccome io adesso è proprio una squadra, perché ho il grande Ciccio Merolla che fa da featuring in questo brano con me, poi ci sono gli attori da Oscar Di Maio, è tutto il team, sono più di 30 persone. Portare con me è un'impresa. Sarebbe un po' assurdo. Mandiamo il video e dico sempre, esatto, dico sempre viva Cantiamo Napoli. Eh sì, eh sì, vuoi fare qualche saluto oltre a questa fascia enorme dei tuoi fan? Ma saluto soprattutto a chi non è mio fan. Applicato può essere anche da parte, perché chi muove bene, giustamente, è tutto giusto. Chi invece non mi apprezza ancora spero di conquistare anche loro. Siamo su questa barca e quindi non ci resta... A te ti vedo una favola, Vanessa, che non ti è riconosciuta. Il bello, ma ora siamo ancora più belle, ma soprattutto brava, questa è la cosa importante. Grazie mille. E quindi salutiamo tutto il nostro pubblico, perché noi siamo quelli di... Cantiamo Napoli! E quindi non ci resta... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti